Tra le iniziative di sensibilizzazione sull'eliminazione della violenza sulle donne, quella dell'Aurum di Pescara, protagonisti gli studenti di sette scuole superiori, Acerbo, Belisario, Classico, De Cecco, Di Marzio, Marconi e Volta. Ragazze e ragazzi hanno partecipato numerosi e con entusiasmo ai seminari e ai laboratori proposti per ascoltare, riflettere e anche per testimoniare. Del resto, oltre la famiglia, la scuola su questo tema assume un ruolo fondamentale. Sentiamo nell'ordine una docente, un'operatrice del Centro Cam, uno psicologo e naturalmente i ragazzi. È anche vero che oggi i ragazzi sono molto sensibili a questo argomento e bisogna far capire che la violenza non porta frutto, ma che l'amore porta il frutto e soprattutto anche nelle parole, perché noi pensiamo sempre alle mani e a qualcosa che va oltre, come l'omicidio, ma invece bisognerebbe iniziare a parlare proprio dalla parte verbale, come ci si pone di fronte a una donna. Noi al Centro Ascolto Maltrattanti lavoriamo purtroppo con gli uomini che hanno già agito violenza, ma in questa giornata con i ragazzi abbiamo voluto aprire uno spaccato proprio sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione. Abbiamo cercato di attivare i ragazzi e quindi di sentire soprattutto il loro punto di vista perché pensiamo che è da lì che possiamo partire per un vero cambiamento culturale. Quando si parla di violenza naturalmente non è soltanto quella fisica, che è quella più evidente magari, ma violenza psicologica, coercizione, minacce. Assolutamente, i tipi di violenza sono molto diversi perché questa si manifesta sotto diverse forme. Abbiamo detto quella sessuale, quella fisica, ma c'è anche quella psicologica ed economica che non se ne parla moltissimo ed è importante perché non permette alla persona, in questo caso magari una donna, di essere libera di gestire la parte economica della famiglia. Che cosa ti è arrivato da questa giornata? Sicuramente è stata una giornata molto importante per fare esperienza su questi eventi che si verificano molto spesso al giorno d'oggi e credo sia molto importante per prevenirli anche in futuro nei nostri casi. Penso che sia importantissimo che la scuola per prima si impegni per prevenire ogni forma di violenza e quindi fra le tante anche questa qui. Quindi questa iniziativa penso sia possa essere molto costruttiva. Vediamo se sei preparata. Il colore di questa giornata qual è? Il rosso. Perché? Penso si riferisca, abbia un'analogia col sangue che è un qualcosa che noi assolutamente non dovremo mai vedere sul corpo di una donna.